Il 10 dicembre alle ore 15 all'istituto avremo la presentazione del libro di Monsignor Sorrentino che è vescovo di Assisi sul Beato Toniolo, un libro ontologico che racconta gli scritti da economista di Toniolo. Toniolo è stato il primo beato economista. La tradizione italiana di economia, di pensiero economico è molto risalente, pensate che il fondatore della scuola è Antonio Genovesi che è un contemporaneo di Adam Smith e si è sviluppata fino ai giorni nostri, fino all'economia civile che è l'ispiratrice della stessa grande iniziativa dell'economia of Francesco. Toniolo si inserisce in questa tradizione e dà la particolarità di avere precorso i tempi proprio sullo sviluppo dell'economia della famiglia, per cui ci sembra particolarmente appropriata la presentazione del libro al nostro istituto. Parlerà con noi e con Monsignor Sorrentino anche il rettore della LUNSA, Francesco Bonini.